Una seduta monotematica di Consiglio Comunale dedicata alla violenza sulle donne si è tenuta questa mattina nell'Aula di Via Verdi per discutere sul tema in vista della giornata internazionale istituita il 25 novembre del 99 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il dibattito è stato preceduto dalle relazioni degli assessori alle pari opportunità Daniela Villani e al welfare Roberta Gaeta che hanno ricordato le iniziative e i servizi del Comune sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. A tal fine l'amministrazione è impegnata nel potenziamento di una rete di accoglienza che consenta alle donne di denunciare senza paura. Oltre Casa Fiorinda si vuole dar vita a cinque poli antiviolenza, uno ogni due municipalità che andrebbero ad aggiungersi ai tre sportelli già operativi nei presidi di pronto soccorso di Loreto Mare, San Paolo e Cardarelli. Molto bella questa seduta monotematica del Consiglio Comunale in un clima che vede coinvolta maggioranza e opposizione, il sindaco, l'amministrazione. Noi abbiamo illustrato l'impegno forte, non solo in termini di denuncia delle violenze che sono ancora tante, ma tutte le iniziative che l'amministrazione ha messo in campo dal primo mandato all'inizio di questo secondo mandato. Ricordiamo uno dei primi atti della Costituzione Civile in ogni processo di femminicidio, le case di accoglienza, ai punti di ascolto, le politiche di vicinanza, di solidarietà e di assistenza, lavorare per evitare che le donne possano stare a contatto con gli ambienti di violenza, ma senza emarginare la donna a sua volta vittima di violenza. Quindi politiche di integrazione, di inclusione, di vicinanza nei confronti della donna in quanto donna e non solamente in caso in cui è madre e quindi per tutelare i figli e quindi la madre. Insomma credo che questo testimonia come per noi i diritti e l'uguaglianza dei cittadini così fortemente sanciti dalla Costituzione siano un valore che va tutelato e voglio aggiungere in un momento storico in cui si taglia le politiche sociali, l'abbiamo dimostrato anche con quello che è accaduto ieri, il Comune di Napoli c'è sempre, non taglia e cerca anche come ha dimostrato oggi l'assessore Gaeta di migliorare la spesa sociale. La seduta si è conclusa con l'approvazione di una mozione unitaria sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che a partire dall'adesione alla Convenzione di Istanbul formula una serie di proposte per gli interventi del Comune sul contrasto alla violenza di genere.